Genova è la serata più bella, forse la serata in cui ripensando al percorso che abbiamo fatto è quella che ha toccato di più il cuore, è quella che effettivamente mi ha emozionato ma mi ha fatto venire le lacrime alla fine della partita sicuramente. Alessandria si sposta con almeno 2000 tifosi, è una partita tiratissima, quasi epica, noi che finiamo in 10, il ricordo più bello, forse indimenticabile di tutta la competizione è la tifoseria alessandrina, io l'avevo proprio di fronte a me, ero a bordo campo, c'erano 2000 persone che cantavano e hanno cantato fino a che l'arbitro non ha fischiato, una roba da brividi.